Volevo chiedere se è arrivata prima la passione per lo sport o quella per la scrittura e poi tre volte in vano come è arrivato al titolo, diciamo, come è nato. Allora, che classe fai tu? Quinto ginnasio. Quinto ginnasio. Allora, parto dal titolo. Il titolo effettivamente è una parte di un verso di Virgilio, quando Enea nel sesto canto scende negli inferi, il padre Anchise è morto da poco, però sembra vero a vederlo di fronte, invece è soltanto un'ombra. Enea cerca di gettargli le braccia al collo, ma per tre volte le braccia gli tornano al petto, perché sta afferrando soltanto aria. Questa è una, così, è un po' in questo verso esiste già la risposta all'altra domanda, cioè se in me sono nate le passioni contemporaneamente o se è nata prima una o l'altra. Probabilmente sono nate insieme, forse con una leggera precedenza rispetto del basket, rispetto alla scrittura e alla lettura, ma per un fatto familiare. Io avevo genitori che giocavano a pallacanesso, la prima cosa che mi ricordo è, appunto, che loro mi hanno insegnato a fare questa cosa, erano così giovani che io ho giocato con loro anche, quindi c'era anche questo tipo di rapporto in cui il basket era un affare di famiglia, diciamo. Chiaramente l'amore per i libri è qualcosa che viene coltivato un po' più col tempo, qualcosa di meno istintivo, ma col tempo lo diventa così istintivo. E allora per me questo titolo rappresenta un'unione, spero felice, perché il romanzo non lo è tanto, però almeno quest'unione dovrebbe esserlo, fra queste due passioni. Da un lato quella sportiva, dall'altro quella per i libri, perché questo verso di Virgilio, pur in un contesto molto diverso, mi raccontava qualcosa che aveva a che fare con l'assenza, con la mancanza. Quindi, siccome la mia storia racconta di un personaggio che è felice quando stringe in mano questo pallone, quindi è evidente che invece se ha un incidente di gioco e non può fare più questo gesto, questa privazione, questa assenza, questa impossibilità di stringere qualcosa che lo rendeva felice, lo porta appunto a un grande stato di prostrazione. E allora per raccontare questo mi è venuto in mente che si poteva fare riferimento a questa immagine mitologica di un figlio che cerca di abbracciare in vano il padre. Fra l'altro la cosa un po' curiosa di questo libro è che nasce dalle ultime pagine, nasce da quelle in cui si descrive di un esercizio di palacanestro che ha molto a che fare con il trattare il pallone, l'averlo in mano, sentire quella specie di fluido che lega la mano alla palla, che è la sensazione che mi è rimasta più viva rispetto a quando giocavo a palacanestro. Come dicevamo prima, molto spesso uno comincia a raccontare le cose dall'assenza, questa mancanza e in qualche modo tu non l'accetti nella vita di tutti i giorni, è difficile appunto rimarginare certe le ferite, alcuni hanno questa, come dire, quest'altra strada che è la scrittura, che è il posto dove puoi rimarginare le ferite, dove puoi rimettere a posto le storie, dove puoi colmare certe lacune. Volevo chiedere ad Emiliano quanto c'è di autobiografico nel suo libro. Allora qua è un pochino più difficile rispondere come ha fatto Paolo, che c'è in parte, perché più o meno a pagina 100 il personaggio si presenta e dice mi chiamo Emiliano Poddi, quindi non potrei negare l'origine autobiografica della storia. Però, ecco, poi detto questo, detto che questo libro racconta qualcosa che somiglia molto alla mia storia, c'è da fare un altro discorso che in parte prosegue quello che avevo accennato prima riguardo a mio padre, detto che è un personaggio talmente eccentrico, talmente pazzo per certi versi, che aveva già tutte le caratteristiche del personaggio e poteva essere preso dalla realtà e spostato nella storia. Non sempre le cose stanno così, nel senso che tu se vuoi conservare lo spirito di una storia, sembra assurdo, sembra paradossale, ma ti devi quasi totalmente inventare un'altra storia, perché la tua storia conservi quello spirito lì, come se facessi una specie di traduzione. Quindi in realtà le deviazioni rispetto alla mia storia vera sono così tante che secondo me arriverà un giorno in cui io non mi ricorderò più cosa è successo davvero e cosa invece mi sono inventato, ma non avrà nessuna importanza perché quelle invenzioni sono state fatte per conservare lo spirito della storia, che era quello di un personaggio che accarezza un sogno, che ci arriva, che lo sfiora questo sogno, che lo perde un attimo dopo averlo sfiorato. Ecco, per rendere nitido questo movimento e per far riconoscere qualcuno in una propria storia, in un proprio sogno sfiorato, c'era bisogno di inventarsi delle cose, di semplificare alcuni passaggi, di introdurre dei personaggi, quindi questo me lo potevo permettere perché purtroppo avrei preferito, ma non è successo, non sono diventato un grande giocatore di palacanestro, nel qual caso avrei avuto quasi l'obbligo di raccontare per filo e per segno la mia storia con tutti i dati reali. E invece, non essendolo diventato, aggiungo di nuovo, purtroppo, mi sono però potuto permettere alcune deviazioni rispetto alla realtà storica dei fatti. Questo te lo chiedo io, ma l'autista, Annibale, è vero o no? Allora, Annibale no, non è vero. Mi dispiace darti questa delusione, Paolo, però anche qui, anche qui in realtà, l'impasto tra cose vere e cose inventate, come al solito, è più complicato di quello che si pensa, perché nella mia vita c'è stato davvero un Annibale, faceva appunto l'autista del pullman che ci portava in trasferta, che si chiamava davvero la cavalla, per motivi che noi stessi ignoravamo, però lo chiamavamo così, questo pullman. E Annibale, come caratteristiche vere di partenza, aveva che non parlava mai con noi, e invece aveva questo dialogo muto con i camionisti che incrociavamo, che salutava tutti, a prescindere, sosteneva di conoscerli tutti quanti, quindi salutava con un colpo di clacson di giorno e di fanale sera-notte. Altra sua caratteristica, per quanto ci scarrozzasse in giro per l'Italia, non ci ha mai chiesto nemmeno una sola volta se avessimo vinto o perso, la partita per cui lui si era fatto 2000 chilometri, per dire. E questa totale mancanza di comunione con noi, questa totale indifferenza, mi ha incuriosito. E allora, se vi ricordate quello che abbiamo detto prima a proposito di certe mancanze che poi vengono colmate nei libri, io mi sono dato dell'idiota per tanto tempo per non aver mai chiesto a Annibale, ma perché sei così? Perché non parli mai con noi? Cosa c'è dietro la tua storia? E il capitolo che racconta la storia di Annibale, a quel punto è un risarcimento a questa domanda mancata e mi sono inventato la sua vita. Verso la fine del libro lei parla della gamba, del rapporto che ha Emilio con la gamba, Emiliano con la gamba. Questa non può rappresentare concretamente il vuoto che prova Emiliano dentro di sé. E poi, l'accettazione di questa non è una specie di rassegnazione? Allora, effettivamente questa immagine della gamba che c'è nella parte finale del libro per il fatto di essere anche preannunciata da altre immagini che ci sono precedentemente ha un valore che è quello che ci hai visto tu, probabilmente. Se ci fai caso il libro si apre con il protagonista, con il ragazzo, allora a 14 anni, che si guarda allo specchio in un momento di trasformazione, nel momento in cui i muscoli cominciano a curvargli il profilo delle gambe, i deltoidi, quello delle braccia, delle spalle. Ed è la fase delle forme perfette, per cui tutto sembra preciso e adatto allo scopo, che nel suo caso è diventare sul campo, nel senso che abbiamo detto precedentemente. Quindi ho pensato che se uno voleva raccontare la formazione di un personaggio e la sua felicità, la costruzione della felicità all'interno di uno sport, doveva anche raccontare come faceva a trasformarsi il fisico per fargli fare questa cosa. Naturalmente questo ha un suo contraltare, una sua parte negativa. E se si rompe questo fisico, che è il tuo strumento per ottenere la felicità, se quelle forme perfette non lo sono più. Non so se avete questa sensazione voi, che quando si è piccoli c'è proprio una tendenza anche dei nostri genitori, nella migliore delle ipotesi, quando cercano di costruirci un mondo adatto e abitabile, di renderci tutto molto ovattato intorno, tutto che possa funzionare bene, con delle linee precise, con dei colori netti. E questo mondo qui piano piano si guasta. Secondo me diventare grandi comincia a che fare con questo, vedere che questo mondo perde i colori, ci sono delle linee spezzate, non più delle linee curve. È una trasformazione in negativo. E questo personaggio la trasformazione la vive sulla propria pelle, per cui vede questa immagine nella parte finale del libro, della propria gamba, che paradossalmente diventa una bella gamba, però femminile, assurdamente femminile nel proprio corpo, che invece avrebbe bisogno ancora di una gamba maschile, atletica. E questa immagine rappresenta il guasto, il rovinarsi di qualcosa che precedentemente invece gli aveva permesso di essere felice. Quindi c'è anche, come dire, la formazione di un personaggio che si può vedere anche dal punto di vista spirituale, qui è vista proprio nel suo fisico. E quindi l'immagine che c'è alla fine è da vedere proprio in correlazione con quell'inizio che sembrava ed era molto promettente. Grazie.